Un importante protocollo di intesa è stato firmato questa mattina dalla Camera di Commercio del Gran Sasso e dalla Prefettura di Teramo per monitorare le attività economiche del territorio, soprattutto tra l'altro per evitare infiltrazioni mafiose. Sì, esatto. Questa mattina abbiamo firmato il protocollo REX, così si chiama, che è un protocollo che permetterà alla Prefettura e a tutte le interforze di poter esaminare quelli che sono i dati camerali per monitorare le aziende e tutti i loro movimenti, per cui è un protocollo comunque importante nel segno della legalità. È un protocollo attivo da subito? È un protocollo attivo da subito e quindi diciamo che è operativo già dalle prossime ore, esatto. Questo è un ulteriore tassello che si aggiunge agli strumenti già a disposizione delle Prefetture per combattere la mafia? Esattamente. Si aggiunge quindi questo strumento importante, informatico tecnologico, che consente alle forze dell'ordine, all'interno del gruppo Interforze Antimafia, che già opera presso la Prefettura, di effettuare in tempo reale accessi su dati, su indicatori e sulle strutture societarie, al fine di intercettare ogni tentativo di presenza anomala nel sistema economico produttivo della provincia. Quali sono gli strumenti attraverso i quali proprio riuscirete a controllare queste attività? Allora, noi sicuramente ci concentreremo sulle attività commerciali, imprenditoriali e produttive che dagli effetti del Covid potranno avere delle gravi crisi anche in termini di liquidità e quindi più esposte ad aggressioni di capitali di provenienza illecita. C'è un altro settore, un altro segmento decisivo e fondamentale che è la costruzione post-sismica che naturalmente già ci sta vedendo impegnati con attività costanti del gruppo Interforze e con la DIA, ma questo strumento di cui ci ha fatto regalo la Camera di Commercio ci consentirà di arricchire le armi a disposizione e quindi di intervenire in tempo reale anche sulla ricostruzione post-sismica.